Rossini TV è presente all'importante appuntamento organizzato da Confcommercio Pesaro, giovedì 25 novembre, siamo nel pomeriggio, è già buio fuori, stiamo aspettando l'arrivo delle autorità che presenzieranno a questo avvenimento che si intitola Ristorazione Agroalimentare, Infrastrutture e Turismo, una rete per valorizzare le marche. Il titolo dice già tutto, la rete è il concetto che sappiamo da molto tempo valorizza la possibilità dei vari operatori, delle varie possibilità del territorio di interagire fra loro, interagire fra loro per dare ancora più spessore, per dare ancora più appeal alla nostra regione. Le marche hanno bisogno di essere conosciute, le marche hanno bisogno di lavorare insieme, le marche hanno bisogno di fare rete nel vero senso della parola, Rossini TV è qui per voi. Siamo con Aldo Cursano, il vicepresidente nazionale FIPE, Pesaro, le marche danno il benvenuto a un illustre fiorentino, è un'occasione importante, lo dice anche il titolo dell'incontro, fare rete. Dobbiamo ripartire condividendo valori, preoccupazioni e prospettive. Io penso che queste iniziative proprio mettono al centro anche la responsabilità della rappresentanza. Questo è un momento di condividere responsabilità e scelte che accompagnino anche il riposizionamento delle nostre imprese. è stato messo in crisi un modello di vita, uno stile di vita, di convivenza sociale e noi dobbiamo trarre da questo momento così difficile e complicato un nuovo modello cui ripartire e noi pensiamo che bisogna ripartire dalle città, riportando quelle funzioni, quei rapporti, quelle relazioni che caratterizzano in qualche modo e hanno caratterizzato la socialità e lo sviluppo di un'economia. noi pensiamo che la sostenibilità ambientale deve essere anche economica e sociale e anche la straordinarietà di un PNR che ci pone nelle condizioni di poter ridisegnare un nuovo modello di sviluppo deve ripartire dal valore anche sociale e economico delle nostre imprese. Noi non siamo solo distributori di beni e servizi ma lo siamo soprattutto di valori. L'umanità, la socialità, i luoghi della socialità all'interno dei nostri ristoranti, dei nostri bar rappresentano un modello che è il più desiderato al mondo perché si fondano sulla relazione umana, sul guardarsi negli occhi, un qualcosa che identifica il nostro stile di vita che noi dobbiamo rimettere al centro nella ripartenza, quindi meno effetti speciali, meno grandi situazioni ma ripartire dalla dimensione umana, dal rapporto umano, dalle cose che toccano il cuore, che fanno stare bene la gente. Quindi se la pandemia ci ha insegnato qualcosa vuol dire rimettere al centro dei valori dove la socialità, l'etica, la responsabilità e la solidarietà devono ritornare ad essere al centro di una ripartenza sana e duraturale. L'assessore Francesco Baldelli è presente a questo incontro alla Confcommercio di Pesaro dove si parla di rete. Io penso che per chi viene dal posto che è ritratto con i bronzi di percola, arriva nella città di Pesaro, non c'è esempio migliore che questo di rete. Sì, fare squadra nella nostra provincia che ha tante emergenze culturali, iniziare dai bronzi dorati fino ad arrivare alle bellezze del capoluogo di provincia che da un punto di vista musicale è iniguagliabile non solo nelle Marche ma in Italia e in Europa, con le sue bellissime spiagge ci dimostrano come se riusciamo veramente a fare squadra non solo tra costa e introterra che lo do come dato ormai assodato, ma fare squadra non solo tra diverse appartenenze politiche ma con le rappresentanze sindacali, economiche, sociali di categoria ci renderà vincenti perché mi piace dire che le Marche sono una regione di cerniera tra le regioni del nord Italia produttive, le regioni europee con le regioni in transizione in cui è entrata anche la nostra regione dobbiamo essere proprio noi la cerniera tra i due mari, quello adriatico e quello tirrenico e tra le regioni del sud e le regioni del nord e come lo possiamo fare? Soltanto con le infrastrutture, le infrastrutture sono una precondizione di sviluppo e oggi vogliamo affrontare questo argomento e questo importante perno della politica della giunta Acquaroli insieme alle categorie, insieme ai autorevoli rappresentanti della Fipe all'interno di Confu Commercio e soprattutto per dare il messaggio che noi vogliamo legare le Marche all'Umbria ma anche alla Toscana. Perché questo rapporto? Perché potremmo mettere in sinergia il nostro porto che è uno dei porti più importanti dell'Adriatico con i porti toscani e liguri. Qui si sviluppa l'economia. L'assessore Stefano Aguzzi è anche lui presente a questo importante momento organizzato dalla Confu Commercio qui a Pesaro. Fare rete, fare rete sul territorio, si può dire che è uno dei suoi mantra? Beh, fare rete sul territorio indubbiamente ma soprattutto secondo me in questa fase serve una forte ricerca di innovazione e per questo poi ne parlerò anche il mio assessorato alla formazione professionale ha un ruolo importante per l'economia e per il suo rilancio. In questa fase post-pandemica che purtroppo ancora non può neanche definirsi ai noi post-pandemica però in questa fase di ripresa il mercato del lavoro sotto molti aspetti anche su quello dell'enogastronomia e del turismo in parte ma anche in altri settori è fortemente cambiato. Servono figure nuove, figure che riescono ad operare in maniera diversa del passato se pensiamo alla carenza di materie prime, al commercio internazionale, alla digitalizzazione occorre formare chi è in cerca di lavoro ma anche chi già lavora a nuove ed inedite attività che prima non erano usuali. Ecco rispetto a questo c'è un grande sforzo da parte del mio assessorato dei miei collaboratori per ricercare attraverso le imprese le esigenze che le imprese hanno ed indirizzare verso quelle esigenze la formazione professionale per preparare le figure adatte a ricoprire quei ruoli dando quindi una mano complessiva all'economia quindi questo dirò ma è effettivamente una cosa molto sentita, molto reale quella che sto ponendo Anche perché formazione poi è quasi sinonimo di cultura e in questo momento storico davvero serve tantissimo anche da questo punto di vista per superare il momento e crescere nel vero senso della parola serve una nuova cultura, un nuovo modo di porsi al servizio, è una grande presa di coscienza e di responsabilità verso noi stessi e verso gli altri, questo è un momento che o tutti insieme diamo una risposta univoca e se mi permette anche di responsabilità tramite soprattutto la vaccinazione e l'immunizzazione per poter uscire davvero presto e in sicurezza da questa brutta situazione e non dover per forza tornare indietro, speriamo Il presidente della regione Marche, Francesco Aquaroli, anche lui a Pesaro per questo importante avvenimento legato alla rete, alla produttività, alle infrastrutture e veramente l'accoglienza della città di Pesaro per questo avvenimento fa capire che è la regione Marche nell'intero a essere coinvolta da questi argomenti Sì, noi siamo una regione che abbiamo veramente delle potenzialità da esprimere enormi e credo che dobbiamo farlo tutti insieme abbiamo un territorio molto omogeneo e che può realmente proiettarci in una sfida turistica commerciale di altissimo livello che è accompagnato al manifattoriero e all'artigianato può costituire un circuito che rilancia l'occupazione trattiene i giovani e trattiene le migliori energie qua nelle Marche per costruire insieme un percorso appunto anche di recupero del gap con i mercati che purtroppo ci ha visto scendere di qualità e di competitività nel concetto di competizione tra regioni e italiane Allora, certo che sul concetto di rete lei ci aveva visto giusto anche con l'ingaggio di Mancini che ha fatto diverse reti quest'estate, Presidente Sì, secondo me il concetto di rete è un concetto importante la rete serve ad esaltare le individualità la squadra serve ad esaltare le individualità e in un gioco di squadra noi possiamo veramente recuperare quella competitività per fare questo occorre consapevolezza La consapevolezza si acquisisce con il confronto, con la concertazione, con la sinergia, con il dialogo, con l'ascolto con la messa in campo di iniziative strutturali che però vanno condivise e vanno costruite insieme Presidente, la Regione Marche sta reggendo abbastanza in questo momento a riguardo alla situazione sanitaria sentivamo prima che diceva giustamente che comunque le strutture ospedaliere sono tuttora in discreta sicurezza però dobbiamo mantenere sempre la massima attenzione anche in virtù di queste ultime novità legislative Sì, massima attenzione, cercare di comprendere che il primo strumento della lotta alla pandemia siamo noi con i nostri comportamenti e con i nostri atteggiamenti credo che indossare le mascherine, che utilizzare il distanziamento sociale quando si è in assembramento e soprattutto anche l'igiene delle mani ogni tanto per cercare di mettere in sicurezza se stessi e gli altri siano dei comportamenti che ormai abbiamo acquisito nella prima, nella seconda, nella terza ondata e possiamo tranquillamente riproporre oggi Insieme a questo sicuramente la vaccinazione ha avuto un impatto molto positivo rispetto al contenimento della pandemia e anche alla messa in sicurezza delle strutture ospedaliere che non devono solo occuparsi di Covid ma devono fare anche altro perché purtroppo le altre malattie nel frattempo non sono scomparse Ci auguriamo che il dicembre nelle Marche sia comunque un dicembre ricco di atmosfera e feste natalizie e quindi ovviamente cogliamo l'occasione anche di fare a lei e alla sua famiglia migliori auguri Guardi, speriamo, lavoriamo per far sì che questo mese di dicembre, il Natale, possa essere il migliore possibile anche a voi e a tutti i cittadini chiaramente vanno i nostri auguri per questo mese e che ci accompagna il Natale che possa essere un mese sereno e di speranza anche rispetto alla situazione sanitaria Davide Paso è il segretario provinciale della FIPE Oggi questo convegno, questo incontro è molto importante e testimonia ancora una volta di più la vicinanza delle associazioni a poi chi fa effettivamente rete sul territorio, agli imprenditori, ai ristoratori Sì, la Conf Commercio, noi abbiamo lo slogan nostro, la Conf Commercio c'è e abbiamo dimostrato adesso proprio che la Conf Commercio c'è e la vicinanza anche con la regione grazie a Francesco Quaroli, il governatore nostro a Francesco Baldelli e Stefano Guzzi Oggi abbiamo il nostro vice presidente nazionale della FIPE Aldo Cursano nonché presidente della regione toscana, della Conf Commercio e questo ci dà l'opportunità di creare questo rapporto di interrelazione con la Toscana questa regione che per noi è sempre stata la regione da emulare oggi come oggi se noi guardiamo le marche in sé per sé ci accorgiamo che non siamo tanto lontani dalla Toscana fino ad oggi non siamo stati in grado di poterci vendere nel giusto modo però noi abbiamo il mare, le montagne, la collina, la cultura, la musica, la storia il cibo, abbiamo tante cose buone la bontà è anche che quando arrivi nelle marche ti senti a casa in questo momento noi stiamo in grado di creare questo rapporto con la Toscana primo con la Fano Grossetto come diceva l'assessore Baldelli poi abbiamo intenzione di trovare delle soluzioni che rendano più leggero il mondo della gastronomia chi lavora dentro un ristorante, chi lavora dentro un bar, un pub o altro praticamente lavora in maniera incessante dalla mattina alla sera quello che noi cerchiamo proprio di trovare è quello di trovare una soluzione e noi abbiamo creato un jolly che sarebbe un nuovo collaboratore che andrebbe a sopperire alle tante ore che fanno gli altri dipendenti riducendo questa pesantezza delle ore e dare l'opportunità a tutti di poter vivere la vita in maniera migliore e sugli stipendi non siamo in grado di agire perché il contratto collettivo nazionale dovrebbe essere riscritto adesso nei prossimi mesi però gli stipendi sono arretrati il corso della vita è andato avanti e lo stipendio è rimasto fisso tenendo in considerazione che noi abbiamo perso nel 2001 metà dello stipendio con l'avvento dell'euro e questo darebbe l'opportunità di dare alle persone la voglia di venire comunque di andare a lavorare altra cosa e questo purtroppo causa il reddito di cittadinanza gestito male la cassa integrazione e tutto quel che c'è stato durante il periodo del covid noi quest'anno abbiamo perso 100.000 posti di lavoro ma non 100.000 posti di lavoro di gente che non ha perso il lavoro di gente che non ha voluto andare a lavorare perché comunque c'aveva l'ereditino, era tranquilla, poteva fare qualcosina in nero quindi ha vissuto l'estate in maniera serena però c'è anche tanta gente, tanto sommerso di persone che hanno voglia di lavorare e quando tu gli vai a prospettare 300, 400, 600 ore di corso la gente si stufa abbiamo intenzione di fare con alcuni enti dei corsi light di 20, 30, 40 ore direttamente in azienda tale da imparare come si deve imparare subito sul luogo di lavoro il proprio lavoro, le proprie mansioni e diamo l'opportunità a tutti di poter rientrare in quel mondo lavorativo che purtroppo persone come me che hanno oltre 50 anni in questo momento sono troppo giovani per andare in pensione ma troppo vecchie per essere assunte Si è concluso il convegno organizzato qui nella sede della Confcommercio di Pesaro questo convegno che ha visto la partecipazione del governatore delle Marche Francesco Qualori che nel suo intervento ha rimarcato davvero con grandissima enfasi l'unicità della nostra regione le meraviglie della nostra regione la possibilità per la nostra regione di diventare davvero un modello nazionale ci sono tutte le potenzialità ovviamente il concetto di rete si rende pratico per esempio nell'iniziativa che vediamo alle nostre spalle e che era stata presentata proprio in questa sede circa due mesi fa 21 ristoranti in rete l'agroalimentare, il turismo, le infrastrutture tutte insieme queste componenti lavorano e viene fatto in modo che tutte queste componenti possano concorrere a far sì che la nostra regione cresca sempre di più davvero un convegno molto interessante grazie a Cristian Roberti per il supporto tecnico buona serata a tutti grazie 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 a tutti